Io ho giurato 138 giorni fa e ogni giorno che il buon Dio mi dà l'onore e l'onere di ricoprire questa carica lo ringrazio perché mi dà una responsabilità enorme ma mi dà la gioia di sentirmi uno di voi. La settimana scorsa ho risposto su Instagram a uno che polemizzando perché io sono uso di ringraziare la Polizia di Stato e i Carabinieri per le operazioni che ogni giorno fanno, questa mattina mi sono svegliato con 14 arresti fra Siracusa, Salerno Napoli, altri 17 in provincia di Trieste contro spacciatori di droga, estorsori, rapinatori e quindi è per me una gioia alzare una mattina ringraziando ragazze e ragazzi che da ore sono in piedi per garantire la sicurezza di questo paese. Ebbene c'era questo buon tempone che mi ha scritto ma lei fa il ministro o lo sbirro? Pensando di usare una parola dispregiativa. E io ho risposto per me è un onore essere in posizione, coordinare finché il buon Dio me lo permetterà, quelli che lei chiama sbirri e per me sono angeli custodi che per una manciata di euro al mese proteggono le nostre case, le nostre famiglie, le nostre strade. Arrivo, arrivo, aspetta, fammi andare lì, arrivo, 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 c'è un'ora che sta lavorando e poi arrivo. Mi metto qua in mezzo? Sì, grazie. Anche a me, grazie, anche qua, grazie, grazie. Sto qua. Juncker... Passano le pacche sulle spalle ma è qualcosa di più concreto a questi angeli custodi di l'anno prossimo? 10.000 assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine l'anno prossimo, è uno sforzo da 380 milioni di euro, una buona parte dei quali abbiamo recuperato grazie al calo degli sbarchi e la presenza degli immigrati in Italia. Meno soldi per la gestione dell'immigrazione e più soldi per la sicurezza in Umbria e in tutta Italia, penso che sia un bel modo di cominciare a fare il ministro. In Umbria in particolare c'è qualche misura specifica? Decine di uomini in più, sia a Perugia che a Terni, non solo polizia di Stato, vigili del fuoco, andremo a esaurire i regolatori vecchi con 1.500 nuove assunzioni nell'arco dell'anno prossimo, carabinieri, c'è la sperimentazione della pistola elettrica che vorrei estendere anche alla polizia locale, alla polizia ferroviaria e quindi stiamo studiando parecchie iniziative, sono qua da 4 mesi però mi sembra che... Quindi arriverà la pistola elettrica anche qui in Umbria? La sperimentazione finisce fra qualche settimana, se i dati continueranno a essere positivi tutti coloro che ne faranno richiesta ne saranno dotati, quindi siccome è un passo in avanti sia per le forze dell'ordine che per i cittadini, ovviamente anche in Umbria se ne si potrà dotare. Ministro, si sta indagando su un altro sconfinamento a Clavier, cosa dice alla Francia? Che è una roba da matti sentirsi dare lezioni di buonismo e antirazzismo da chi di notte come i ladri scarica i migrati nei boschi italiani, è una roba che non sta né in cielo né in terra, andremo fino in fondo. Ministro Juncker dice che se dovesse passare la manovra italiana sarebbe un cattivo esempio per gli altri paesi europei. La manovra italiana è passata, se ne faccia una ragione, si beva un caffè. Dice che se l'Europa accettasse gli sbandamenti della manovra italiana arriveranno insulti e dimettivi da tutti gli altri paesi d'Europa. Gli sbandamenti sono arrivati in questi anni dall'Europa, che ha portato precarietà e insicurezza in un intero continente. Quindi un'Italia che cresce è l'interesse di tutti, tranne che forse di Juncker o pochi altri, che ci vorrebbero paese di conquista, campo profughi o paese deindustrializzato. Si rassegnano, gli italiani hanno tirato sulla testa e quindi ognuno decide a casa sua. Però dice contestualmente che non ci sarebbe Europa senza Italia. Sì, sì. Noi siamo un paese fondatore dell'Italia e dell'Europa, però vogliamo l'Europa che faccia poche cose e le faccia bene, ad esempio difenda i confini. Ancora in queste ore c'è un barcone nelle acque maltesi che vorrebbero far arrivare in acque italiane, ma che per quello che mi riguarda rimane lì dov'è. Quindi l'Europa si preoccupi di difendere la sicurezza dei suoi cittadini, che all'agricoltura, al turismo, alle pensioni, alla scuola, al lavoro e alle tasse ci pensiamo noi. E sulla polizia europea? Io mi godo la polizia di stato italiana, che è meglio della polizia europea. Nel 2019 si immagina un'Europa diversa. Ah, cambia tutto. Fortunatamente cambia tutto. Ministro, buon lavoro. Grazie. grazie